Ciao ragazzi, allora oggi vorrei proporvi e presentarvi un pezzo che a mio avviso è uno dei temi più belli che siano mai stati scritti per chitarra è l'adagio dal concerto di Aranghez di Joachim Rodrigo in questo caso faremo il concerto di Aranghez è il concerto per chitarra orchestra noi faremo un adattamento per chitarra sola evidentemente ma questo pezzo qua potrebbe venirvi bene anche per fare una serenata siccome a volte mi chiedete ma come possiamo fare con le ragazze sai per fare colpo con la chitarra allora ve lo dico io invece di fare le canzoni di Elettra Lamborghini vi studiate il concerto di Aranghez immaginatevi quindi un borgo buio di notte, notte piena un chitarrista spagnolo seduto su tre gradini ha le scarpe col tacco, col tacco nero pronunciato un po' da flamenco lui e il profilo delle case sono reali tutto quello che c'è sopra il cielo, la volta celeste, le stelle e la luna è tutto disegnato è un quadro, quindi è follia cielo stellato di follia, una notte stellata di follia e lui comincia a fare questo Si minore e poi entra col tema è un quadro, è un quadro, è un quadro, è un quadro mio cuore Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Avete capito ragazzi? Bisogna che siete fantasiosi. Arangues, mon amour. Anche il titolo di questo arrangiamento, guardate. In francese, in francese de la cour de la mer, Arangues, mon amour. Io non so il francese, ragazzi. Joaquin Rodrigo, l'adagio dal concerto di Arangues, uno dei più grandi temi mai scritti per chitarra. Lui scrisse due concerti per chitarra orchestra, così poi quando lei vi dice cos'è, oh, cos'hai suonato, oh, che bello, cos'hai suonato, voi sapete anche cosa avete suonato. Il concerto di Arangues è l'adagio questo, il secondo movimento. Rodrigo scrisse due concerti per chitarra orchestra. Il concerto di Arangues e la fantasia por un gentilombre, dedicata a Segovia. Io preferisco la fantasia por un gentilombre, mi piace di più, basata su temi di Gaspar Sanz. Però ragazzi, questo adagio è veramente stupendo, quando entra questo tema. È molto melodico. Qui cerchiamo di adattarlo. Vibrate. La mafia. La mafia. La mafia. Pausa e poi entra la seconda parte 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 Pausa e poi entra la seconda parte